Erano anni, non sto scherzando, che cercavo un servizio di qualità simile per fare analisi fondamentale, screening, trovare dati finanziari e finalmente l'ho trovato. Ogni singolo sito che provavo aveva dei problemi. Su alcuni siti mancavano dei dati chiave, utili per l'analisi, su altri non potevo andare indietro oltre i 5 anni, su altri i dati erano addirittura sbagliati, credeteci. In altri casi ancora i dati erano impaginati male, quindi era un po' confusionario visualizzarli e in quei rarissimi casi in cui tutte le cose erano al loro posto il problema era uno e uno solo, il prezzo. E fidatevi, ho provato anche piattaforme da 5-10 mila euro l'anno che sì, andavano bene ma bisogna stare su quei prezzi. E ora magicamente dal cielo è arrivata un'azienda che propone servizi di quella qualità a un millesimo del prezzo. Nel video di oggi vi parlo di Ticker.com, mostrandovi nel dettaglio il sito e in ogni sua parte, ma prima sigla. Ciao a tutti ragazzi, io sono Pietro e benvenuti in questo nuovo video, video in cui vi parlo di Ticker. Ma che cos'è Ticker e perché mi ha letteralmente salvato la vita, o meglio il portafoglio? Ticker è una piattaforma, un sito utile per fare analisi fondamentale, infatti troverete tutti i dati sui bilanci e potete fare anche uno screening approfondito delle aziende. Il problema per questo tipo di sito, come sempre, è la qualità dei dati e su questo qualsiasi investitore non dovrebbe mai passare oltre. Il dato deve essere perfetto, giusto e accessibile. Sappiate, infatti, che mi ero un po' informato su tutte le varie piattaforme ed ero qua pronto a spendere per il 2022 quasi 10.000 euro all'anno per avere dati di maggior qualità possibile per fare le mie scelte di investimento e le mie analisi, comprando i dati dalla piattaforma S&P Capital IQ. Poi, fortunatamente, ho scoperto Ticker. Ticker, infatti, pesca il grosso dei dati proprio da Capital IQ, quindi la qualità è la stessa, ma a un decimo, a un centesimo del prezzo. Ci tengo a precisare che il video di oggi non ha ricevuto l'approvazione di Ticker, non è sponsorizzato in alcun modo dalla piattaforma, ma sono semplicemente le mie opinioni che però, vabbè, già si è capito, sono estremamente positive. Siccome però il prodotto, appunto, mi fa impazzire, lo adoro, li ho contattati e abbiamo avviato una collaborazione per cui, a fine video, se la piattaforma vi convince, se quello che vi ho fatto vedere vi sembra valido, registrandovi attraverso il link che trovate in descrizione avrete modo di sostenere il canale. Ma di questo ne parliamo alla fine. Anche perché fidatevi, quando vedrete il prezzo, e attenzione perché è una promozione super temporanea, poi va via, difficilmente direte di no. Quando dovevo pensare a questo video mi sono chiesto come parlarvi di questo sito. Avrei potuto raccontarvelo un po' come sto facendo adesso, oppure fare quello che alla fine ho deciso di fare, ossia effettivamente andare al computer e mostrarvi il sito in ogni sua singola parte, in modo tale che potesse essere un video anche quasi un tutorial, molto educativo e formativo, per farvi vedere come si usa e soprattutto anche come io lo uso. Ma adesso entriamo subito nel dettaglio perché vi voglio mostrare il sito in ogni sua parte, quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo. Ed eccoci qua, sono entrato nella home page di Ticker, questa è la prima schermata che vedrete una volta aperto il sito, e iniziamo subito a vedere quali sono i primi elementi. In alto come vedete abbiamo i principali indici americani, d'altronde Ticker è un sito americano, quindi S&P 500, Nasdaq e così via. Nella parte centrale invece abbiamo le principali notizie, in questo caso possiamo filtrarle per l'argomento, quindi possiamo ad esempio impostare solo notizie relative ai dividendi, a delle fusioni o acquisizioni, molto interessante questo filtro secondo me. Nella parte destra invece, come è un po' comune a qualsiasi sito di finanza, abbiamo le principali quotazioni, con i titoli più attivi, quindi che hanno scambiato di più, i titoli che hanno guadagnato e perso di più. In basso invece c'è una divisione per settori, quindi abbiamo per esempio tecnologia, sanità, divisione per regioni, quindi vediamo i diversi mercati geografici, come stanno performando, una divisione per asset, quindi vediamo come si muovono le commodities, l'oro, l'argento o addirittura i bond qua sotto, e anche molto interessante i fattori. Sul canale abbiamo solamente accennato a fattori, in particolare abbiamo parlato spesso del fattore value, ebbene, qui abbiamo tutti i vari fattori, dal microcap al value al quality, high dividend yield, e anche in questo caso possiamo vedere quotidianamente come questi fattori vanno a performare. Tra l'altro la cosa comoda è che possiamo anche andare cliccando su uno di questi fattori a vedere come sta performando, e quindi potremo vedere tutto il grafico. Sulla sinistra abbiamo questa sidebar, e iniziamo subito a vedere le principali sezioni, di cui la prima è idea generation, quindi generazione di idee di investimento. Apriamo quindi la prima sezione watchlist, e qui vediamo che possiamo creare una o più watchlist, io qua ne ho creata solamente una, watchlist prova, ma qui in alto a destra potrei volendo andare a crearne più di una, ma torniamo appunto nella sezione principale. La cosa che notiamo è che possiamo personalizzare tutto, quindi possiamo ovviamente aggiungere qualsiasi titolo vogliamo, io qua ne ho aggiunti alcuni da diversi mercati, per mostrarvi che sia sul mercato americano, che di Hong Kong, che negli Stati Uniti, non ci sono problemi per quanto riguarda le quotazioni. Possiamo inoltre andare a personalizzare le colonne che ci vengono mostrate, quindi per esempio io qua ho aggiunto, e di base non c'è, l'enterprise value totale dell'azienda. Poi possiamo per esempio aggiungere anche dei multipli, che verranno mostrati per tutta la nostra watchlist, quindi in questo caso per esempio c'è l'enterprise value diviso il fatturato atteso per i prossimi 12 mesi, e qui vediamo che ci sono tutti i vari multipli per queste aziende. Non solo però, perché qui in basso ci sono anche delle statistiche, summary statistics, in cui possiamo vedere intanto per cominciare il numero di titoli che abbiamo in watchlist, e soprattutto anche delle statistiche, per cui la media ad esempio della variazione dei titoli che abbiamo in portafogli, in questo caso questi 5 hanno avuto mediamente nell'ultima giornata una variazione positiva, ma soprattutto possiamo vedere la media dei multipli, molto interessante, così come anche una deviazione standard. Sempre nella sezione watchlist spostiamoci nella barra upcoming events, in cui per i titoli che abbiamo inserito nella watchlist, ci verranno segnalati tutti gli eventi che devono svolgersi riguardanti i nostri titoli. In questo caso io ho inserito in watchlist ad esempio Monster Energy, per cui tra gli eventi che devono arrivare c'è questa special call organizzata per il 13 gennaio. Spostandoci poi nella sezione notizie, andiamo a vedere le notizie che riguardano anche i nostri titoli. Perché ho specificato anche? Beh, prendiamo per esempio la seconda. La seconda notizia riguarda Tencent, 700 è il ticker per Tencent, che ho chiaramente inserito in watchlist, ma non solo, riguarda anche Roblox. Quindi in questo caso è una notizia che va a riguardare più titoli, ma il mio è coinvolto, quindi dovrebbe interessarmi in teoria. C'è poi la colonna Significant Developments, quindi sviluppi importanti, e qui per esempio vediamo che Tencent sta facendo dei buyback, che Fitch ha cambiato il rating per quanto riguarda Ant Group, insomma, sono notizie più di carattere finanziario abbastanza importanti, quindi secondo me è bene che siano distinte dalle notizie. Sotto Filings è un po' come Upcoming Events, semplicemente riguarda il passato, per cui abbiamo per esempio tutti i vari report che vengono mandati alle autorità da parte delle aziende. Qui ci sono un sacco di documenti mandati da Alibaba, ma se andiamo avanti vediamo che Beyond Meat ha mandato un documento 8K, e qua possiamo cliccando accedervi. Non vi faccio vedere la colonna Transcript, semplicemente perché la vediamo tra pochissimo, quindi andiamo avanti. La seconda sezione è Track Investing Gurus, quindi possiamo vedere i portafogli dei più grandi fondi che ci siano. Vediamo per esempio che schiacciando su Berkshire Hathaway, che è forse uno dei fondi più seguiti al mondo, vediamo tutto il registro di tutte le posizioni, quindi vediamo che ad esempio la prima è Apple, il 41% del portafoglio, poi c'è Coca-Cola e così via. Personalmente sapete che non amo andare a vedere i portafogli dei grandi fondi, banalmente perché è molto difficile andare a replicare quello che fanno, perché o lo si fa in ritardo o lo si fa in modo incompleto, però comunque è interessante avere tutto nella stessa piattaforma. Andiamo adesso a una vera e propria chicca, che è forse una delle due cose che mi ha convinto a utilizzare questo sito, ossia lo screener. Lo screener messo a disposizione da ticker è veramente incredibile, arriva a un livello di profondità assurdo. A questo prezzo, io ve lo assicuro, ho guardato ovunque, ma nessuno riesce ad arrivare a questo livello di profondità. Ma creiamone insieme uno, qui per esempio ne ho creato uno che si chiama Screen3, e possiamo vedere che andando a scegliere i parametri, ne abbiamo ben 335, ma non solo. Prendiamo per esempio un dato abbastanza strano, che normalmente non avrebbe molto senso, ma è giusto per farvi capire le potenzialità. Aziende che negli ultimi tre anni siano cresciute ad un ritmo medio del 10%. A questo punto sono andato in Income Statement, Total Revenues, quindi fatturato totale, CAGR, quindi crescita annua composta, degli ultimi fiscal year, tre anni, quindi dobbiamo andare a prendere 21, 20 e 19, 18, quindi fino al 19, fino al 20 e fino al 21, quindi dal 2018 al 2021, sono tre anni, maggiore o uguale al 10%. Fetce Screen, e otterremo tutti i titoli, che in questo caso sono 3500, anche in questo caso con tutte le statistiche, e qui sotto poi li vediamo elencati. Ci vorrebbe un video intero, probabilmente per mostrarvi tutte le potenzialità di questo screener, ma fidatevi, ci sono davvero tantissime cose che potete fare, io vi invito a pasticciarci, a giocarci un po', perché arriva a un livello di profondità e di dettaglio che è reso possibile solo grazie alla qualità dei dati che hanno. Come dicevo nel video sugli screener, maggiore la qualità dei dati, maggiore è la potenza dello screener. Vi faccio vedere uno screen completo, che è uno che ho creato un po' per pasticciare in piattaforma, un po' perché penso effettivamente possa essere utile. Qui dentro abbiamo una capitalizzazione di mercato superiore ai 500 milioni di dollari, qui c'è l'unità di misura, ma inferiore ai 30 miliardi. Un EBITDA degli ultimi 12 mesi maggiore uguale a zero, quindi non mi interessano tutte quelle aziende con EBITDA negativo. Exchange primario, cosa significa? Che la borsa principale su cui è quotata questa azienda, che poi andrò a trovare, non deve essere quotata sulla borsa di Shanghai, Shenzhen, e banalmente ho messo altre borse su cui è praticamente impossibile acquistare, per noi piccoli investitori al dettaglio. La stima di fatturato, qui vedete c'è scritto consensus estimate, per i prossimi 12 mesi deve essere maggiore di zero. E questo perché l'ho fatto? Non perché mi interessano solo le aziende che avranno un fatturato, ma perché se un'azienda non ha una stima di fatturato, questo valore non ci sarà, non è maggiore di zero, ma proprio non ci sarà. Quindi mi interessano solo aziende che siano coperte da analisti. Il fatturato invece nel 2021 deve essere cresciuto del 20%, quindi vedete change year over year fiscal year, nel anno fiscale 2021 deve essere cresciuto del 20%. Qui poi ho fatto una cosa particolare, che con moltissimi screener non si può fare, ossia ho messo una colonna che mi mostri solamente i valori, quindi non voglio fare uno screen di nessun tipo, ma voglio semplicemente che i valori vengano mostrati. Infatti in questo caso non ho messo nessuna impostazione, ma ho semplicemente messo display only. Ultimo parametro reale, il fatturato nell'anno fiscale 2020 deve essere aumentato del 20%, e poi di nuovo ho messo una colonna display, ossia la variazione del mese del prezzo dell'azione. Schiacciando su fetch screen, ecco che allora verranno calcolate tutte le aziende che soddisfano questi requisiti, che non sono tante, sono solamente 100, e qui sotto le possiamo scorrere assolutamente tutte. Vedete che l'aver messo per esempio display su questo parametro, quindi enterprise value diviso EBITDA, mi consente di vedere la statistica di quelle aziende, quindi l'enterprise value diviso EBITDA mediano è di 25, che è un dato che può essere utile. Insomma, davvero è inutile che so mostrarvi ancora cose sullo screen, perché è veramente fantastico. Provate a sperimentarci un po'. Adesso entriamo nel vivo, perché andiamo a vedere la sezione relativa all'analisi fondamentale. E per farlo prendiamo un'azienda che più o meno tutti conoscono, ossia Amazon. Questa è la prima schermata, ossia Company Overview. Qui direi che possiamo anche cancellare questa sidebar, visto che per ora non ci serve più, e vediamo che inizialmente ci viene mostrato il prezzo, il grafico del prezzo. Possiamo anche scegliere di mostrare solamente la linea, se non ci interessa, o addirittura nascondere completamente il grafico. Una cosa che però, prima di entrare nel vivo, vi voglio mostrare, è questa impostazione, ossia Business Owner Mode. In questo caso, impostandola, tutti i prezzi, e quindi anche il grafico del prezzo, e tutti i vari altri parametri che poi vedremo che coinvolgono il prezzo, verranno nascosti. Questo perché il sito ci vuole un po' aiutare nel non farci influenzare dal prezzo di oggi. Io personalmente lo tengo attivo, ed è un'impostazione che apprezzo tantissimo, almeno fino a quando non ho finito la valutazione. Lì allora sì, vado a vedere altre cose relative al prezzo. Nella prima schermata, chiamata Overview, vediamo appunto tutti i prezzi nascosti, ma possiamo tranquillamente mostrarli schiacciando qui. Quindi in questo caso vediamo, per esempio, anche il valore massimo, il valore minimo dell'ultimo anno, il price value e così via. Ma di nuovo, teniamolo nascosto. Facciamo un po' come faccio io. Qui a destra abbiamo una breve descrizione dell'azienda, che in questo caso, trattandosi di Amazon, direi che non ha senso leggere. Nella sezione Notizie, un po' come prima, abbiamo Notizie relative anche all'azienda e i Significant Developments. Quindi assomiglia molto a quello che abbiamo visto prima nella sezione un po' più generica. Adesso però entriamo veramente nel cuore dei ticker, perché andiamo a vedere i dati finanziari, che sono i migliori che io abbia visto a questi prezzi e non sto assolutamente esagerando. In Financial abbiamo ovviamente la classica divisione nei documenti chiave del bilancio, quindi Income Statement, Balance Sheet e Cash Flow Statement. Poi andiamo a vedere anche gli ultimi due. Ma iniziamo appunto da Income Statement e guardiamo subito che cosa abbiamo qua sopra, perché questo è veramente la svolta, è super comodo. Tanto per cominciare, dobbiamo impostare il periodo che ci interessa guardare, quindi ci interessa vedere i bilanci anno per anno, trimestre per trimestre, oppure addirittura semestre per semestre. in questo caso allora basterà andare a cliccarlo, adesso siccome ho schiacciato trimestre ci sta mettendo un attimino, ok, oppure possiamo addirittura mostrare 12 mesi. Adesso per semplicità andiamo sul bilancio annuale. Dopodiché qui possiamo andare a impostare l'unità di misura, in questo caso è in dollari, quindi non ci consente di cambiarlo, e anche di mostrare l'altra unità, quindi non tanto la valuta, ma proprio l'unità, quindi migliaia o milioni o addirittura miliardi, che nel caso di Amazon forse è anche un po' più comodo. Valori decimali da mostrare, io qua di solito lascio sempre il centesimo, reverse dates, alcuni preferiscono avere il dato più recente sulla sinistra, io personalmente lo preferisco sulla destra, visto che leggo da sinistra a destra, e con questo possiamo copiare la tabella, quindi lui l'avrà già copiata, a questo punto se io vado ad aprire Excel e la incollo dentro, ecco che allora avrò una replica fedele di questa tabella, molto utile se devo fare dei miei modelli. Ultima cosa davvero fondamentale è questo selettore in cui posso andare ad impostare gli anni che mi interessano, io in questo caso voglio impostare dall'anno fiscale 2016 fino all'anno fiscale 2021, che in questo caso però non si è ancora compiuto, quindi lui mi farà vedere solo l'anno fiscale 2020, più gli ultimi 12 mesi. Vediamo che qui non ci sono grandi sorprese, se non che i dati sono di una qualità pazzesca, infatti già l'ho detto prima, vengono presi in parte da Capital IQ, che è una delle piattaforme più costose e migliori per quanto riguarda la qualità dei dati. Non solo però perché oltre a vedere i classici dati che possiamo vedere sulle classiche piattaforme, anche se sulle classiche piattaforme gratuite non possiamo andare così tanto indietro, questo assolutamente è impensabile, vediamo anche dei dati aggiuntivi che io spesso faccio fatica a trovare. Uno tra tutti, banalmente, l'EBIDA. L'EBIDA infatti lo calcola direttamente la piattaforma, facendo EBIT più i depreciamenti e gli ammortamenti, ed è un dato molto utile se i vostri modelli si basano sull'EBIDA. Possiamo poi vedere altri parametri davvero utili, come l'utile per azione base o l'utile per azione diluito. E già qua vi ho spoilerato una piccola cosa, ossia per ognuno di questi parametri, se lo andiamo a schiacciare, sopra ci verrà composto un grafico, che anche in questo caso possiamo andare facilmente a modificare gli anni con il selettore di prima, quindi qui in alto, e possiamo anche andare a impostare se preferiamo la vista a colonna o a linea. In questo caso io ho messo sul grafico, per esempio, utile per azione base, lo vedete qui in basso, e utile per azione diluito. E di base non cambiano troppo uno con l'altro, ovviamente. Una cosa che però amo vedere sotto forma di grafico, piuttosto che vederla qui sotto in tabella, è ad esempio la crescita di fatturato. Quindi schiacciando su qua sotto, change your over year sotto il fatturato, e schiacciando qui, possiamo vedere se nel tempo la crescita si sta allentando oppure no. E a giudicare dall'ultimo anno direi assolutamente no. Ok, adesso andiamo nella sezione dello stato patrimoniale, quindi balance sheet, e anche qui davvero ragazzi, non c'è molto da dire perché i dati sono perfetti, li ho confrontati anche con direttamente altre piattaforme, e la qualità è quella lì. Cioè sono veramente dati perfetti. In questo caso una cosa che apprezzo è vedere il numero degli impiegati. Qui vediamo che l'ultimissima riga è un dato che normalmente non si trova, ed è il numero di impiegati, di dipendenti di questa azienda. E lo faccio di solito perché voglio andare a calcolare il fatturato per ogni dipendente. In questo caso quindi banalmente andandomi a copiare la tabella e metterla in Excel insieme all'altra, insieme a quella dell'income statement, posso andare semplicemente con un clic a fare questo calcolo e non andando manualmente a recuperare questo dato per ogni anno. Qui non ci sono troppe sorprese, quindi andiamo avanti nella sezione del cash flow statement, e anche qui davvero non c'è molto da dire. Viene mostrato la variazione del capitale circolante, cosa estremamente utile, visto che così non me la devo calcolare io. Viene mostrato tutto, tutto nei minimi dettagli, viene anche mostrato il cash flow per azione, quindi tanta tanta roba. Ma andiamo adesso nelle ultime due sezioni per quanto riguarda i bilanci, che sono ratios e segments. Partiamo da ratios, quindi tutti i vari indici e rapporti. E qui, qui ragazzi, davvero per chi fa analisi fondamentale e per chi la fa seriamente, avere tutti questi dati già a disposizione, già calcolati e precisi, soprattutto, è un grandissimo risparmio di tempo. Oltre ad avere tutti i dati su redditività, profittabilità, come ad esempio qui vediamo i margini, ritorno on asset, ritorno on capital, margine cash flow, abbiamo tutto. Abbiamo anche i valori per quanto riguarda il turnover delle attività, quindi asset turnover, turnover dell'inventario, cosa che io apprezzo tantissimo per un certo tipo di azienda, ma non finisce qui, perché è tutto raggruppato in modo molto ordinato, quindi qui ci sono gli indicatori che riguardano la liquidità, quindi quanto l'azienda è in grado di far fronte alle passività di breve periodo, current ratio, questo è importantissimo andarlo a guardare, ma anche questi, questi ragazzi, io ve lo assicuro, ho usato tanti, tanti siti, questi, e non si trovano, non si trovano davvero, quasi mai, e se si trovano sono calcolati male, malissimo, e soprattutto non si trovano per tutti questi anni. Sono i parametri che riguardano l'efficienza, e per un'azienda come Amazon, per esempio, guardare questo, il cash conversion cycle è fondamentale, poi andate ad approfondire questo valore se non lo conoscete, ma è fondamentale per tutti quelli che sono dei venditori al dettaglio. Poi vabbè, non stupisce vedere che ci sono anche i classici parametri di solvibilità, quindi debito equity, debito capitale, EBIT diviso spesa per interessi, tutte cose che normalmente quando si va a vedere quanto un'azienda è indebitata è bene guardare. Andiamo adesso in un'altra vera e propria chicca di questo sito, ossia la sezione segments, riduciamo un attimo qua perché sennò impazziamo e andiamo a vedere i segmenti, benissimo, nei segmenti noi possiamo vedere il fatturato diviso per segmenti di business, quindi in questo caso poi se non capiamo queste diciture è perché è Amazon che le chiama in un certo modo, dovremmo andare a vederne i bilanci, ma la cosa bella è che possiamo andare a vedere il fatturato diviso tutte le varie aree di segmenti. Per esempio, io so, perché l'ho analizzata, Amazon, che Amazon divide il proprio business in Nord America, quindi tutto il suo e-commerce nel Nord America, internazionale, quindi e-commerce nell'internazionale e Amazon Web Services che considera un po' a parte. E qui possiamo vedere com'è ripartito e banalmente vogliamo vedere le percentuali, crearci dei grafici, possiamo tranquillamente fare così e buttarlo dentro Excel. Qua sotto, per non farci mancare nulla, c'è anche la divisione in segmenti geografici, quindi in aree geografiche. Quanto fatturato di Amazon viene dal Giappone, per esempio? Qua è scritto 20 miliardi in questo caso. Informazione molto molto utile. Ma andiamo avanti perché non finisce mica qui, andiamo nella sezione valuation che riguarda tutto quello che è valutazione. Quindi qua entriamo già nell'ambito dei multipli, quindi quello che riguarda il prezzo in effetti. In generale, se stiamo all'interno di valuation, è bene forse andare a modificare questa impostazione business owner e toglierla perché altrimenti alcuni parametri potrebbero non apparire visto che chiaramente noi vogliamo nascondere il prezzo. La prima sezione è quella dei Multipli Forward, quindi ci fa vedere in questo momento, soprattutto oggi, che è la cosa più interessante, quali sono i multipli rispetto ai bilanci attesi per gli anni a venire. Ricordiamoci che poi c'è ancora la sezione stime da vedere che è bella corposa, ma iniziamo da qua. Per esempio, noi oggi sappiamo che l'Enterprise Value diviso il fatturato previsto per i prossimi 12 mesi per quanto riguarda Amazon è di 3,2. Poi abbiamo invece i Multipli Trailing, quindi quelli che riguardano i mesi passati, quindi quelli un pelo più attendibili perché comunque sono dati reali che si sono effettivamente verificati e la cosa bellissima è che così come prima potevamo vedere il grafico di tutti i valori che avevamo in tabella, anche qui possiamo farlo. Schiacciando per esempio questo, Prezzo diviso Utili per azione diluiti, andiamo a vedere il Multipli Prezzo Utili di Amazon storicamente e anche in questo caso possiamo allargare questo grafico a più non posso. Non solo, ma in alto abbiamo anche delle statistiche. Valore minimo, valore massimo, valore medio, ultimo valore, quindi prendiamo per esempio gli ultimi tre anni e vediamo che Amazon ha avuto come Multiplo Prezzo Utile più basso 55 e come Multiplo più alto 152 e questo per chi opera con i Multipli è molto utile vederlo in un click. Ci sono poi i valori attesi per fatturato, EBITDA e così via per i 12 mesi che seguiranno e i valori che invece ci sono stati per i 12 mesi precedenti. una cosa che in questo caso mi piace fare è andare a vedere per esempio non so, prendiamo EBITDA e andiamo a confrontare questo con questo. Cosa sto facendo in questo in sostanza? 12 mesi fa ci si aspettava che Amazon in questo momento arrivasse a fare 64 miliardi. Vedete che era un anno fa esattamente era ottobre 2020 un pelo di più in realtà qui dovremmo andare un pelo più avanti tipo qua comunque non cambia 64 miliardi di fatturato ci si aspettava di EBITDA scusate e invece in questo momento Amazon è arrivata a fare 60 miliardi di EBITDA quindi possiamo dire che gli analisti erano un pelo troppo ottimisti e possiamo andare a fare questa cosa anche nel passato e vedere ad esempio 3 anni prima 5 anni prima se gli analisti ci avevano preso oppure no. Ma visto che stiamo parlando di analisti cancelliamo un attimo questo grafico che non ci serve più e andiamo a vedere nella sezione estimates quindi stime degli analisti ok per chi non avesse mai visto una tabella del genere devo spiegare soprattutto una cosa molto importante ossia perché di fianco a determinate date c'è una A e di fianco ad altre date invece c'è una E la A sta per actual ossia valori reali valori che sono avvenuti valori che si sono già verificati perché valori storici vediamo che per esempio l'anno fiscale 2020 si è già concluso quindi sappiamo con precisione quanto Amazon ha fatturato nel 2020 ma in questo caso per esempio l'anno fiscale 2022 presenta una E vicino perché è un anno fiscale atteso e sta per expected quindi atteso e lo stesso in realtà vale per l'anno fiscale 2021 che non si è ancora concluso dal punto di vista dei bilanci non è ancora uscita la trimestrale di Amazon che chiude l'anno fiscale quindi l'intero anno fiscale 2021 risulta come E questo andava spiegato secondo me per evitare un po' di confusione dopodiché quello che a me piace fare in questa sezione è andare a praticamente nascondere tutti i bilanci vecchi perché in questo caso mi voglio concentrare solamente sulle stime future quindi andiamo qua e andiamo a spostarci al 2021 che qua risulta ancora come atteso ma a me va bene in questo caso noi possiamo andare a vedere tutte le stime degli analisti per fatturato per utile per azione ad esempio qui vedete EPS per free cash flow ed è molto utile se anche voi dovete basarvi su queste stime che forse è la cosa migliore da fare almeno in partenza anche in questo caso ovviamente noi possiamo andare a vedere le stime per tutti questi valori fino in questo caso al 2025 non possiamo andare dopo ma direi che è più che sufficiente sia come anni fiscali ma volendo anche come trimestri che è una cosa interessante se siamo ad esempio vicini all'uscita di una trimestrale quindi vediamo che per esempio appunto la fatidica trimestrale finale di Amazon è questa qui e si prevede un fatturato di 137 miliardi ancora non è uscito quindi staremo a vedere se gli analisti ci hanno preso oppure no ovviamente è molto utile anche la colonna crescita che viene calcolata dal sito sotto a fatturato e bidai e così via quindi se noi dobbiamo andare a prevedere la crescita di fatturato per i prossimi anni sicuramente questa riga è un buon punto di partenza non abbiamo ancora finito perché ci sono altri due strumenti in realtà tre e due e mezzo diciamo utili per l'analisi fondamentale il primo sono i transcript quindi le trascrizioni delle conferenze con gli analisti dell'azienda qui come vedete è semplicissimo a raggiungerle basta schiacciare su transcript qui abbiamo tutte le ultime ordinate in modo assolutamente perfetto e schiacciando su questa che era l'ultima quindi quella del terzo trimestre vediamo che è stato tutto automaticamente trascritto e possiamo leggerla senza dover necessariamente ascoltare le registrazioni qui vedete che ci sono le domande degli analisti molto molto interessante se state studiando un'azienda secondo me le trascrizioni sono assolutamente da leggere almeno le ultime due o tre andiamo poi in filings anche in questo caso non è molto diverso da quello che avevamo visto nella watchlist di prima quindi gli ultimi documenti mandati all'autorità da parte di amazon e questo diciamo lo ritengo abbastanza utile perché vabbè poi in realtà si trovano molto facilmente sul sito ma andiamo qui e vediamo ownership anche ownership io vi consiglio sempre di mettere holdings date perché altrimenti vi mostra anche come le quote sono variate dall'ultimo report che è abbastanza poco utile in realtà vediamo appunto chi possiede amazon in questo momento il 13% di amazon lo possiede jeff bezos qui vedete bezos il 6,5% lo possiede vanguard e in realtà altri fondi perché banalmente includono amazon all'interno di etf se però vogliamo vedere ad esempio solo i fondi speculativi quindi magari gli hedge fund che hanno all'interno amazon possiamo andare qui e schiacciare su hedge fund in questo caso vediamo che ci sono 5 fondi 5 hedge fund che hanno amazon non ne hanno tantissima chiaramente ma ce l'hanno e infine anche in questo caso molto utile le transazioni fatte dagli insider quindi da chi lavora all'interno dell'azienda vertici o comunque persone molto in alto qui c'è la data ricordo che tutte le date sono in formato americano quindi invertite numero e mese ci fate l'apitudine subito non vi preoccupate e qui vediamo che ultimamente gli insider a dicembre hanno venduto non tantissimo però hanno venduto ok ragazzi io vi ho fatto vedere tutto questo con amazon semplicemente perché è un'azienda con cui tanti hanno familiarità ma vi ricordo che su ticker ci sono titoli da tutto il mondo anche banalmente titoli italiani se andiamo a vedere intesa san paolo quotata direttamente sulla borsa italiana non attraverso formule strane tipo adr vediamo che lo troviamo qua intesa san paolo bit quindi borsa italiana e anche in questo caso vediamo tutto ciò che c'è da vedere i bilanci sono regolarmente o in euro o in dollari a seconda di quello che ci interessa e tutto quello che ho detto prima vale anche per queste aziende un punto molto importante per me era che ticker funzionasse anche con aziende estremamente piccole perché spesso opero proprio su queste aziende con il mio portafoglio quindi è importante per me che i dati non siano solo delle aziende più grandi che tra l'altro di solito sono quelle su cui è anche più difficile trovare del valore ma in generale su qualsiasi tipo di azienda per esempio questa è un'azienda italiana di cui vi avevo parlato forse un annetto fa e capitalizza 88 milioni di euro quindi pochissimo eppure non per questo i dati non ci sono ci sono sono precisi forse qui non ha senso andare nei miliardi quindi magari spostiamoci nei milioni però possiamo vedere anche i dati per semestre perché ricordiamoci che in Italia i bilanci escono semestralmente e comunque ci sono tutti quindi li vediamo qua e sono precisi sono giusti li ho verificati più volte e non ho mai trovato errori ok ragazzi spero di essere riuscito a farvi vedere tutto nei minimi dettagli e che i vostri dubbi o curiosità sulla piattaforma siano state completamente risolte se però comunque volete provarla sappiate che esiste una versione completamente gratuita che però a mio avviso è molto limitata ci sono bilanci solo di aziende americane fino al massimo a 5 anni nel passato e le stime degli analisti sono solo fino a 2 anni nel futuro quindi se però volete fare il salto di qualità sapete quanto costa la versione completa con tutto vi aspettereste una roba tipo 100 euro al mese che comunque sarebbe forse onesto rispetto ai concorrenti e invece no 15 dollari al mese che sono tipo 13 euro ok tenete conto però che questo prezzo è super temporaneo e vi spiego perché Ticker fino a praticamente l'altro ieri era in versione beta quindi c'era un altro tipo di offerta un altro programma e il sito era appunto anche nella sua fase embrionale ora che il sito però sta uscendo dalla versione beta sta chiaramente aumentando i prezzi e per non scontentare quelli che già utilizzavano il sito ha proposto questo sconto a vita quindi a vita ripeto se lo fate adesso costa meno e sempre costerà meno sostanzialmente comprando a questo prezzo fissate il prezzo a vita quindi fino a quando non vi stufate continuerete a pagare questo prezzo tra circa 10 giorni io stimo non siano date precise il prezzo salirà al doppio fino a 30 dollari al mese che comunque vabbè non è la cosa più sconveniente del mondo ma ora è regalato se volete acquistare questo servizio e fare appunto il salto di qualità come investitore e contemporaneamente supportare il canale sappiate che qui sotto in descrizione trovate un referral link e se vi iscrivete da quel link a voi non cambia assolutamente niente ma per il canale questo fa un'enorme differenza spero ragazzi con questo video di avervi fatto un favore facendovi conoscere Ticker perché per me è stato così quindi se anche per voi lo è stato lasciate un bel mi piace e iscrivetevi per altri video del genere per oggi è davvero tutto io vi saluto e alla prossima grazie a tutti